Presidente, il progetto vincitore di questo concorso è davvero un progetto innovativo come ANCI e voi siete al fianco dei giovani. Noi siamo al fianco dei giovani perché il futuro è dei giovani e questi ragazzi lo hanno dimostrato, ragazzi di seconda e terza media che riescono a fare un progetto della propria scuola ideale e vincere un primo premio è una cosa interessante. Non dimentichiamo che l'Abruzzo in Italia rappresenta meno del 2%, quindi avere una scuola che è arrivata prima in un premio nazionale ne siamo orgogliosi e fieri. Progetto innovativo che va nella direzione dell'ecosostenibilità. L'ecosostenibilità è una cosa importante, comunque non dimentichiamo che noi veniamo da 50 anni in cui l'edilizia ha avuto tre fasi importanti. La prima in cui si è sviluppata con grandi aiuti nazionali del governo centrale, poi abbiamo avuto la finanziarizzazione di questi immobili, quindi altro sviluppo. Adesso purtroppo stiamo vivendo da ben 12 anni una crisi veramente profonda e buia. Quindi è importante che in questo momento con i super bonus che vanno verso l'edilizia green ci sia un nuovo sviluppo, un nuovo importante rinascere dell'edilizia. Ed è importante che questo sviluppo lo facciano i nostri giovani che sono il futuro della nostra generazione. Un paese dell'entroterra che è conosciuto per la fama dei cuochi e quant'altro, oggi si pone anche all'attenzione per via di questi ragazzi che vedono una scuola del futuro proiettata su tutto quello che è un risparmio energetico, cercando di ricapitalizzare anche tutte quelle che sono le energie. Quindi siamo molto molto soddisfatti e pensiamo che loro presenteranno questa progettazione al Comune. Il Comune tramite Ance e anche la Regione Abruzzo vedrà di fare quanto sarà possibile per avere un'idea di progetto, poterlo sviluppare, perché no, anche poterlo finanziare. C'è l'orgoglio di sapere che ci sono delle intelligenze, ci lamentiamo sempre che le nostre intelligenze vanno all'estero. Io penso che quando ci sono progetti di questo tipo, con dei ragazzi che frequentano solo la seconda o la terza media, andrebbero capitalizzati. Quindi bisogna avere la massima attenzione per poterli fare restare qui e produrre tutto quello che devono per il nostro paese.